Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Come al solito vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo andiamoci dentro col video. Oggi voglio parlarvi di un caso che onestamente mi ha stupita per la sua brutalità. Non solo mi ha stupito l'atto in sé, quindi il delitto e le modalità, ma mi ha anche stupito il comportamento che hanno i personaggi di questo caso. In particolare uno, ma non vi svero nulla, tutto verrà da sé, con calma, andiamo con ordine. In questo video parliamo di Dwight Nolan Tobin, un uomo che scompare nel nulla senza lasciare traccia. E dirla tutta ha anche dei buoni motivi per farlo, però il tempo passa e l'allontanamento dell'uomo inizia a farsi troppo lungo. E' così che i dubbi iniziano ad emergere. Ma partiamo dall'inizio. Dwight Nolan Tobin nasce l'8 maggio del 1953 a Clay Center in Kansas da Loris e Lowell Tobin. In seguito cresce nella fattoria di famiglia. Sherry Griffin, la donna che diventerà sua moglie, cresce come Dwight a Clay Center in Kansas. Nasce il 24 luglio del 1956 e la sua famiglia possiede un'impresa di propano di successo. Dwight e Sherry si conoscono al liceo, iniziano quindi a frequentarsi in quel periodo e in effetti stanno insieme per anni. Il loro è un amore forte e saldo e così nel 1975 convola la nozze. Nel 1978 la coppia si trasferisce a Salinas in Kansas per permettere a Dwight di studiare scienza degli animali alla Kansas State University. Mentre l'uomo studia, Sherry lavora in un call center di un centro ospedaliero col fine di mantenere la famiglia e di aiutare Dwight con gli studi, ma non solo. Sherry infatti affronta tre gravidanze mettendo al mondo due figlie e un figlio, Jennifer, Allison e Brett. Gli sforzi di Dwight sono ricompensati, infatti consegue un master in scienza degli animali e successivamente con sua moglie si occupa del foraggio per il bestiame. L'uomo a successo è bravo in quello che fa, ma purtroppo perde la maggior parte dei suoi beni e di quelli di sua moglie a causa di investimenti in azioni fallimentari. Nonostante ciò, Dwight è ambizioso, vuole migliorare la sua capacità di investimento. Riesce di conseguenza ad ottenere un lavoro come broker di materie prime a Salinas, proprio per imparare a conoscere i mercati finanziari. Successivamente la famiglia trasloca di nuovo e si stabilisce a Denver, nel Colorado, dove Dwight inizia a studiare economia e commercio. All'Università di Denver si laurea nel 1991 con un master in economia aziendale. È così che fonda la Tobine & Company, una società di intermediazione creditizia. Sherry invece ottiene una licenza immobiliare per generare reddito in caso l'attività del marito fallisca. Ora sono una famiglia, hanno tre figli e quindi devono stare molto attenti alla parte economica della loro vita, perché la priorità ora è non far mancare nulla ad Alisa, Jennifer e Brett. I problemi però bussano alla porta quando a Sherry viene revocata la licenza immobiliare, in quanto gli agenti immobiliari hanno un codice etico rigoroso da seguire. Non possono assolutamente attuare comportamenti discriminatori con i clienti, cosa che invece la donna faceva abbondantemente. Sherry, ahimè, era solita fare giudizi poco consoni dinanzi a dei clienti che andavano a visitare delle case alquanto costose. Li fissava dalla testa i piedi per vedere come erano vestiti e quindi per capire se per caso fossero persone ricche. Spesso Sherry ha fatto delle pessime figure facendo battute di cattivissimo gusto. Anche perché, ammettiamolo, quando le persone ricche vogliono andare a visitare una casa, col fine di comprarla, non devono per forza presentarsi in giacca e cravatta. Non credo ci sia un dress code per andare a visitare una casa in vendita. Sherry alla fine ha pagato sulla sua pelle, la condotta inadatta che ha tenuto a lavoro. A questo punto Dwight suggerisce a Sherry di trasferirsi di nuovo in Arizona, in quanto il mercato immobiliare in quel periodo è in piena espansione. Gli affari per Dwight vanno molto bene. Compra quindi una casa lussuosa, enorme, con sei bagni, e in una Grated Community a Gilbert. Con Grated Community si definisce una tipologia di modello residenziale formata da gruppi di case esclusive con accesso sorvegliato. Queste sono aree residenziali in contesti urbani, alle quali è impedito l'accesso o il transito a chi non vi sia residente, a meno che un residente non inviti qualcuno ad entrare, chiaramente. In questo periodo Dwight inizia a frequentare il Seville Golf Club, vicino casa sua. Inoltre compra a Sherry una Jaguar, la macchina dei suoi sogni. Dwight cerca di fare di tutto per rendere felice sua moglie, però apparentemente non sembra preoccupato per le sue finanze. Ultimamente effettivamente non sta guadagnando come prima, ma l'uomo sembra non curarsene. Sherry invece se ne rende conto e come, e teme di dover abbandonare la sua vita lussuosa, a causa della poca attenzione di suo marito. Quindi col permesso di Dwight, la donna inizia a gestire i suoi affari. Come vi ho già detto Sherry, guidano a Jaguar, conduce una vita di lusso. Ma la verità è che non le basta minimamente. La donna vuole ottenere di più. Come vi ho già detto, è lei che gestisce gli affari di suo marito e inizialmente tutto procede benissimo, come al solito. Fino a quando Dwight non inizia a ricevere delle chiamate dai suoi clienti alquanto strane. In queste chiamate i suoi clienti più affezionati si dimostrano preoccupati per lui. Gli chiedono come stia, si informano sul suo stato di salute. Alcuni gli chiedono se è stato dimesso dall'ospedale. Altri ancora gli chiedono quando sarà dimesso dall'ospedale. Dwight non capisce bene cosa sta succedendo. In prima battuta rassicura i suoi clienti. Dice loro che sta bene, che non gli è successo nulla e che non è affatto in ospedale, non ci è mai stato in ospedale. Ora, è vero che se ti chiama un cliente fidelizzato chiedendoti una cosa del genere, puoi anche sì insospettirti o puoi anche chiudere un occhio. Però quando i clienti che chiamano sono 20, diventa difficile chiudere un occhio. Dwight deve capire da dove arriva quella storia. Di conseguenza va da sua moglie per chiederle spiegazioni. Sherry inizialmente sembra stupita. Dice a Dwight che non ha idea del perché i clienti lo chiamino per sapere se sta bene, se è in salute. Dwight però non è scemo, è la versione di sua moglie e non ci crede minimamente. Quindi le fa pressioni, le chiede in continuazione cosa vi ha detto ai suoi clienti e ben presto scopre dove sta l'inghippo. Sua moglie Sherry ha detto che Dwight è in ospedale solo col fine di ritardare i pagamenti. L'uomo chiaramente si spaventa quando sente questa cosa, ritardare i pagamenti? E perché mai? Sherry non è chiara, far fuglia solo di aver speso un pochino di soldi. Dwight quindi va a fare un controllino e nota che mancano 50.000 dollari. Giusto un pochino di soldi, infatti. Inutile dirvelo, Dwight è incazzato come una iena e affronta sua moglie appena scopre quanti soldi ha speso. Sherry però sostiene di aver utilizzato quel denaro non solo per se stessa, ma anche per la famiglia. Onestamente io credo che questa bugia regga poco. È assurdo, una cifra del genere è altissima. Ed è folle pensare che Sherry abbia usato 50.000 dollari per aiutare la famiglia quando non ci sono prove pratiche di nessuna spesa fatta per i figli o per migliorare la casa. Dwight in ogni caso non ho capito perché crede a sua moglie e quindi la perdona. Sherry però non ha capito una fava e quindi non si ferma, continua a spendere denaro. Ad un certo punto però la donna finalmente schiaccia un minimo il freno, rallenta, smette di spendere cifre assurde. Finalmente inizia a ragionare e capisce di essere nei guai fino al collo. Quindi inizia ad inviare dei messaggi allarmanti alla sua famiglia per poi svanire nel nulla. Dwight chiaramente va subito a cercarla, è preoccupato per lei e ben presto scopre che in effetti sua moglie si è rifugiata proprio da un loro amico. Ha assunto una quantità di pillole esagerata e ahimè rischia di venire a mancare per overdose. Dwight e il suo amico quindi chiamano immediatamente un'ambulanza. Sherry viene portata all'ospedale e solo quando si riprende dice al marito il motivo del suo gesto estremo. Devono ai creditori oltre un milione di dollari. A questo punto Dwight deve per forza vendere la sua casa costosa a Gilbert proprio col fine di pagare i debiti. La coppia quindi si trasferisce da Gilbert in un condominio in affitto a Scottsdale in Arizona. Ovviamente nel frattempo i figli della coppia crescono, prendono strade diverse, si allontanano, insomma iniziano finalmente a condurre la loro vita, come è giusto che sia. Ora però facciamo un bel balzo avanti. Siamo nell'agosto del 2010 quando alla detective di Scottsdale, Jennifer Paxton, viene affidato un caso davvero particolare. Quello è un caso di persona scomparsa. Si tratta di un uomo bianco, di mezza età, di nome Dwight Tobin, la cui sparizione è stata denunciata dalla figlia. In base ai verbali compilati dalla figlia di Dwight, l'ultima volta lo aveva visto otto mesi prima. Però questa situazione è parecchio strana in quanto la scomparsa di un adulto di solito viene denunciata immediatamente. Basta che un soggetto non si presenti al lavoro per qualche giorno, non risponda alle chiamate per qualche giorno. Ed ecco che di solito le indagini partono immediatamente. Questo però è un caso strano perché sono passati però otto mesi da quando Dwight ha fatto perdere le sue tracce, è scomparso. Nessuno sa dove si trovi, tuttavia non è mai stato dichiarato il suo decesso. Quindi, Dwight è vivo e vegeto da qualche parte? La detective Paxton si dirige da sua figlia, colei che ha sporto denuncia per la sua scomparsa, sperando di chiarirsi un po' più le idee su questo caso. Jennifer sostiene che suo padre era molto orgoglioso dei suoi figli e amava immensamente la sua famiglia. È così che Jennifer e la detective Paxton iniziano a parlare. La donna sostiene che nel 2009 i suoi genitori hanno iniziato ad attraversare una forte crisi. In quanto nel 2008 l'attività di Dwight, suo padre, era andata a rotoli. Non avevano più un soldo, quindi hanno dovuto vendere la casa, i mobili, ma nonostante queste vendite non sono riusciti del tutto a coprire i loro debiti. Questo è tutto ciò che sa Jennifer. In realtà però ad aggravare la situazione si è aggiunta l'FBI. Quando nel 2009 ha iniziato ad indagare sulla società di Dwight, la Tobin & Company, per frode. Intanto il rapporto tra Dwight e sua moglie precipita inesorabilmente. Il 5 novembre Dwight sente il suo avvocato, il quale gli consiglia di sparire per un po'. Ma soprattutto gli consiglia di divorziare da Sherry per impedirle di utilizzare le loro risorse finanziarie rimanenti. A questo punto nella nostra storia entra brevemente un nuovo personaggio. Il fratello di Dwight. Un uomo di nome Bryce. Che succede? Dwight in pratica chiama suo fratello e gli spiega la situazione. Gli dice che con sua moglie le cose non vanno proprio. E per di più è nei guai. In guai seri. L'FBI gli sta col fiato sul collo. Quindi Bryce invita suo fratello a vivere con lui a Ined in Oklahoma. Dwight quindi decide di noleggiare una roulotte per trasferirsi da Scottsdale in Arizona a Ined in Oklahoma. Dwight ovviamente avvisa la famiglia. Dice che è in partenza. Deve nascondersi e mantenere un profilo basso per un po'. Però inizialmente non dice loro dove si è diretto. Semplicemente il giorno prima del ringraziamento quindi il 25 novembre del 2009 esce di casa e se ne va. Pochi giorni dopo la partenza di Dwight Bryce riceve un messaggio dal fratello. L'uomo sostiene di avere l'influenza. Passa di nuovo qualche giorno e Dwight scrive di nuovo a suo fratello. Ho cambiato idea, mi trasferisco in Messico. Lo sai solo tu. Per favore non dirlo a nessuno. Bryce ovviamente è convinto che suo fratello Dwight stia cercando di eludere l'FBI. Quindi non si preoccupa. Dalla partenza sua figlia Jennifer sente suo padre solo tramite email o messaggi scritti. L'uomo si fa vivo. Almeno fino a dicembre. E scrive a Jennifer sempre la stessa mail, lo stesso messaggio. Non preoccuparti per me. Io sto bene. Il tempo passa. Dwight non chiama a casa. Ma nessuno si preoccupa realmente di che fine possa aver fatto l'uomo. Sono convinti che continui ad essere da qualche parte. Pensano che si stia nascondendo. Però quando Dwight non si fa vivo neanche per la nascita del suo nipotino, ossia il secondo figlio di Jennifer, la famiglia entra in allarme. Jennifer partorisce a maggio. Ormai sono cinque mesi che Dwight non si fa vivo. Il telefono suona certo, ma lui non risponde mai. Inoltre smette anche di rispondere alle mail e ai messaggi telefonici. Così, otto mesi dopo averlo visto per l'ultima volta, Jennifer sporgi e denuncia la polizia. È il 21 luglio. Jennifer dunque parla con la detective Paxton, le spiega la situazione. È davvero preoccupata e addolorata, non ha idea di che cosa possa essere successo a suo padre. Così la detective prende immediatamente in mano la situazione. Il primo passo per la detective è rivolgersi ai vicini dipartimenti di polizia. Controlla quindi i casellari giudiziari. È convinto che l'uomo possa essere in custodia da qualche parte. E invece di Dwight non c'è neanche l'ombra. Non solo non è in carcere, ma è anche registrato come vittima di danno colposo. Inoltre la detective scopre che il suo veicolo, per l'esattezza un pick-up, è stato danneggiato in un complesso residenziale a Phoenix. La detective, con queste prove in mano, inizia a farsi un'idea ben precisa di dove possa essere Dwight. Secondo la Paxton, l'uomo era passato dal vivere in una casa di 500 metri quadrati in una comunità ambiente, a vivere in un piccolo appartamento con una camera da letto. Si vergognava ad ammettere in che situazione si trovava. Non voleva che i suoi figli lo sapessero, ecco perché si era allontanato da casa senza farsi più vivo. La detective Paxson è del tutto convinta che Dwight abiti nel complesso residenziale in cui è stata danneggiata la sua macchina. Così si dirige senza pensarci troppo a Phoenix. È convinta di trovare Dwight, parlare con lui, risolvere e chiudere il caso per poi ripartire, massimo per le 17 del quel pomeriggio. La donna però appena arriva sul luogo si rende conto che la sua previsione si rivela totalmente errata, in quanto non trova assolutamente Dwight. Non c'è in quel complesso, probabilmente non c'è neanche mai stato. La sua macchina però è davvero nel parcheggio di quel complesso residenziale ed è in stato di abbandono. La detective dunque si avvicina al veicolo. E ben presto le è chiaro che quella macchina è parcheggiata lì da davvero molto tempo. All'interno della macchina infatti la donna nota una grande quantità di polvere. Nel cassone del pick-up sono presenti agli di pino e pigne cadute dagli alberi. Ma non è finita qui. Sulla carrozzeria della macchina si nota chiaramente una scritta nera fatta con una bomboletta spray. Quell'auto quindi è stata vandalizzata. Girando attorno al veicolo e guardando all'interno dell'abitacolo, la detective nota che il finestrino del passeggero è avanzato di circa 3 o 4 centimetri. Guardando all'interno dell'auto nota immediatamente le chiavi sul tappetino della macchina. Quelle chiavi sono lì e sono pure in vista. Per la detective si creano ulteriori dubbi e domande. Ecco perché decide di interrogare il gestore del complesso residenziale. E ahimè le risposte che riceve non sono affatto positive. Il gestore del complesso infatti sostiene di non aver mai avuto a che fare con un uomo di nome Dwight Tobin. Non ha mai preso casa lì. Ma quindi che ci fa la macchina di Dwight posteggiata in quel parcheggio? Perché l'ha abbandonata? L'ha fatto volutamente? Oppure gli è accaduto qualcosa di brutto? Le domande si fanno sempre più insistenti e purtroppo per ora non hanno una risposta. Il veicolo viene portato al distretto e analizzato. I detective cercano macchie di sangue ma non trovano nulla. Non c'è nessuna tracce matica. Né alcun bossolo di proiettile. Però un detective nota immediatamente qualcosa di strano in quella macchina. La posizione del sedile è strana perché è spinto tutto quanto in avanti. Di conseguenza quel sedile risulta vicinissimo al volante della macchina. Però Dwight è un omore. Non solo è alto ma è anche robusto. Questo vuol dire che di certo quella macchina non l'ha guidata lui per l'ultima volta. Ma qualcun altro. A un certo punto i detective accendono il motore della macchina. La radio si accende. Ed è sintonizzata su una stazione che trasmette solo musica hip hop. Questo secondo le autorità è un fatto singolare. In quanto Dwight di certo non era solito ascoltare quella musica. I detective più indagano più arrivano ad una conclusione. Non è stato Dwight a portare quella macchina in quel parcheggio a Phoenix. Quindi non è mai stato in quel parcheggio residenziale? Pensandoci, visto i guai che aveva con l'FBI, è anche probabile che Dwight abbia guidato fino a quel parcheggio residenziale, abbia parcheggiato e poi abbia tirato tutto in avanti il sedile per eludere di nuovo l'FBI. La polizia di Scottsdale però non ha ancora conoscenza di questo fatto. Finalmente le autorità a ricerca di risposte scavano nel più grande problema della vita di Dwight, scoprendo finalmente che l'uomo ha dei grossi, grossissimi guai finanziari. È addirittura in corso un'indagine dell'FBI per la Tobin & Company. L'attività è indagata per frode, nello specifico per appropriazione in debita di 750.000 dollari. Le autorità scoprono quindi che l'uomo che stanno cercando è soggetto di un'indagine condotta dall'FBI. Forse è questa situazione che ha a che fare con la sua sparizione? Il 13 marzo del 2010 la detective Paxton riesce a recuperare una email scritta da Alison, la figlia più piccola dei Tobin. Su quella mail c'è scritto In pratica tutta la famiglia è un po' preoccupata, ma nessuno crede realmente che sia successo qualcosa di brutto a Dwight. Sherry è rimasta in quella casa fino a quando ha potuto senza Dwight. Ha continuato quindi a mantenere la casa e a mantenersi per quanto possibile. La donna però non lavora e di conseguenza non sa come mantenersi. Quindi un giorno si presenta a casa di sua figlia Jennifer per chiederle aiuto. Avrebbe bisogno di un posto dove stare perché non ha soldi e non sa più come cavarsela. È il 22 dicembre del 2009. Jennifer ovviamente accoglie sua madre in casa, ma in assenza di suo marito Sherry cade in depressione. Jennifer ha la sensazione che sua madre abbia rinunciato a risollevarsi. Non cerca lavoro, non prova a migliorare oppure a sistemare la situazione. L'unica frase che ripete in continuazione è Chi assumerebbe una donna della mia età? Alla fine Jennifer, sua figlia, sbotta e le dice Mamma tu ci devi provare, non sappiamo quando tornerà papà. Devi cercare un lavoro per guadagnare qualche soldo. È così che Sherry si arrabbia. E dice sua figlia Cosa vuoi? Vuoi che me ne vada? Sua figlia le risponde che no, non le ha detto di andarsene. Beh sì, le ha consigliato di tirarsi su, di provare a uscire, di cercare un lavoro, di provare a rimettere in sesto la sua vita. Anche senza la presenza di Dwight. Sherry però si infuria ancora di più in quanto per lei è impensabile andare a lavorare. È vero? All'inizio della relazione con Dwight lo aveva fatto. Aveva lavorato in un call center ospedaliero. Ma lo aveva fatto solo per permettere a Dwight di raggiungere dei risultati importanti sul piano lavorativo finiti gli studi. È ben presto chiaro che la donna sia depressa perché non ha più soldi per fare la bella vita. Sembra più dispiaciuta per questo che per la scomparsa di suo marito. Insomma la sua vita lussuosa inizia a diventare un lontano ricordo e Sherry odia questa situazione. Sembra provi rancore per Dwight perché l'ha abbandonata, l'ha lasciata lì, da sola, senza soldi, senza aiuti. Ora deve cavarsela da sola. Ma pare non voglia fare neanche quello. O forse Sherry non ha la forza di farlo perché è distrutta anche dalla scomparsa di suo marito. Sherry a questo punto si arrabbia con sua figlia e Jennifer si arrabbia ancora di più perché le dice Ascoltami bene mamma, tu qui sei a casa mia, sei un ospite. Quindi quello che ti sto cercando di far capire è che devi cercare di rimetterti in sesto. Esci, cerca un lavoro, fa qualcosa. Non stare tutto il giorno lì sul divano a piangerti addosso. È inutile. Il punto è che per Sherry questo discorso che le ha fatto la figlia non sta né in cielo né in terra. Lei non deve assolutamente andare a lavorare ma ci mancherebbe altro. Quindi si arrabbia come una iena e se ne va. Sherry subito dopo riesce a trovare una casa molto piccolina in cui sistemarsi. Ma i rapporti con sua figlia si deteriorano totalmente tanto che Jennifer non sa neanche l'indirizzo della nuova casa di sua madre. Non disponendo del nuovo indirizzo di Sherry la detective Paxton si mette in contatto con Brett il secondo figlio dei Tobin. Il ragazzo al telefono con la detective non si dimostra preoccupato. Dice che lui ha ricevuto un'email il tempo prima. suo padre gli ha scritto di non stare in pensiero per lui gli ha letto che sta bene che se la sta cavando benissimo. Quindi Brett è convinto che ormai il suo padre si stia facendo una nuova vita altrove. Però quando la detective lo informa che il suo veicolo un pick up per l'esattezza è stato trovato nel parcheggio di un complesso residenziale a Phoenix abbandonato e vandalizzato e anche lui inizia a preoccuparsi. Con l'aiuto dei figli dunque la polizia riesce a rintracciare Sherry vivere in una piccola stanza in affitto ed è ancora in città. È così che i detective la raggiungono e per la prima volta dall'inizio delle indagini la interrogano. Sherry con voce tremante dice alla detective Paxson Vorrei sapere dove sia mio marito. La detective le risponde Sherry per questo le abbiamo chiesto di vederci oggi. Quando l'ha visto per l'ultima volta? Sherry risponde L'ho visto per l'ultima volta mercoledì 25 dicembre 2009 ossia il giorno prima del ringraziamento. Stava facendo le valigie per partire. L'idea era quella di separarci per un periodo di tempo per via dei problemi finanziari che stavamo affrontando per cui lui mi ha detto Separiamoci sembrerò egoista ma partirò e mi prenderò cura di me stesso e tu dovrai trovare un modo per cavartela da sola. Per quanto mi riguarda una frase del genere non lascia chissà quante chiavi di lettura. Insomma Dwight aveva lasciato sua moglie se ne era andato e si era allontanato per prendersi cura di se stesso ma soprattutto per stare meglio. Sherry però afferma che era convinta all'epoca che l'allontanamento del marito fosse temporaneo. Ora però inizia a dubitarne e ora io mi dico ma possibile che Sherry non si sia resa conto che suo marito prima di partire l'abbia mollata? Gliel'ha detto chiaramente! Sherry continua a dire alla detective ho provato a chiamarlo a mandargli messaggi email ma non ho ricevuto nessuna risposta pensate che stia bene? Qualcuno lo sa per caso? La detective risponde secca no mi dispiace nessuno sa cosa si è successo a Dwight per il momento. L'unica prova che Dwight ha in vita è la serie di contatti che ha avuto con i suoi figli di conseguenza la detective Paxton accede al suo account di posta elettronica controlla quindi le sue email ed è chiaro che qualcuno le avesse aperte quelle mail sono state lette aperte o comunque visualizzate Dwight quindi si sta davvero semplicemente nascondendo magari non vuole più essere trovato magari ha trovato una nuova donna oppure vive in un posto di cui si vergogna certo sembra strano però è possibile questo però riflettendoci non sembra proprio il caso di una persona scomparsa ma di una persona che è stata fatta sparire la detective torna a studiare le email che ha ricevuto Dwight e inizia a scorrere tutte le email che le ha scritto sua moglie e secondo lei in quelle email manca qualcosa quelle mail sono tutte estremamente gentili dolci affettuose si leggono frasi come ti prego fatti vivo perché ci manchi non vediamo l'ora che torni per favore fatti vivo la domanda che sorge spontanea però alla detective Paxton è perché non c'è neanche un email in cui Sherry si infuria insomma Sherry è stata sposata con quell'uomo per 30 anni hanno tre figli insieme lui un bel giorno ha fatto i bagagli e semplicemente se n'è andato e lei non l'ha neanche più sentito quindi dov'è l'emailing in cui Sherry perde le staffe non c'è non esiste e questo secondo la detective non è normale se si è sposati è così che la detective si chiede se Sherry sappia di più di quanto dichiari le autorità quindi ritornano al punto di partenza e iniziano a farsi delle domande essenziali che però inizialmente non avevano poi così tanto preso in considerazione dove è stato visto esattamente Dwight per l'ultima volta dove viveva prima di sparire il punto di partenza è il condominio in cui i due coniugi vivevano prima che Dwight partisse con la proprietaria di casa dunque la detective Paxton si reca in quell'appartamento e in effetti sembra tutto in ordine insomma un appartamento normale però la proprietaria di quell'appartamento dice che è accaduto qualcosa di insolito la famiglia Tobin prima di andarsene ha fatto una cosa che solitamente nessuno fa ossia ha cambiato la moquette nella camera da letto padronale la cosa è strana in quanto chiunque possega proprietà da affittare sa benissimo che gli inquilini non sostituiscono la moquette al limite se ne vanno lasciando una bella macchia da pulire e infatti questa situazione per la detective è immediatamente motivo d'allarme cosa nascondeva la vecchia moquette le autorità finalmente decidono di tenere d'occhio Sherry quindi ogni sera una pattuglia si ferma proprio fuori casa sua una notte gli agenti di servizio notano che la donna esce di casa con in mano un sacchetto della spazzatura apre il portabagagli della sua macchina mette il sacchetto della spazzatura all'interno poi entra in macchina mette in moto e si allontana gli agenti che la tengono ad occhio ovviamente la seguono per vedere dove li porta è così che finiscono dietro il parcheggio di un centro commerciale a circa 80 km da casa sua Sherry esce dalla macchina apre il bagagliaio afferra il sacco della spazzatura e lo butta nei cassonetti del centro commerciale appena la donna si allontana i detective estragono immediatamente il sacco dal cassonetto e dentro ci trovano dei vestiti e una pistola smontata per l'esattezza una 9 mm a questo punto la situazione che si presenta alle autorità è questa un uomo era scomparso 9 mesi prima ed ora la moglie da cui si era separato gettava una pistola in un cassonetto lontano da casa sua in piena notte la polizia esamina l'arma in cerca di indizi senza arrivare a nessun risultato la pistola è pulita quindi le autorità decidono di tornare da Sherry per interrogarla riguardo il contenuto del sacco della spazzatura che ha gettato Sherry dice l'autorità che lei ha detto tutto ciò che sa i detective la incalzano e le chiedono perché abbia buttato quella pistola e la donna risponde eravamo sotto indagini stava crollando tutto ed io ho pensato che fosse finita inoltre per la partenza di Dwight a novembre sono così depressa so che da sciocchi ma ho iniziato a pensare di farla finita alla fine ci ha rinunciato non ho abbastanza coraggio per uccidermi davvero Sherry inoltre spiega che quando i detective di Scottsdale l'hanno interrogata si è preoccupata parecchio perché lei quella pistola non avrebbe potuto tenerla in casa ecco perché ha deciso di liberarsene le sue dichiarazioni a quanto pare trovano risposta perché tutti i figli ammettono che in effetti Sherry in passato aveva già tentato di farla finita cosa che in effetti vi ho detto più o meno a inizio video però i figli sostengono che Sherry ci ha provato nuovamente nel 2008 quando è stata aperta l'indagine federale sembra quindi che Sherry in realtà non abbia colpa però i detective decidono di continuare a tenerla d'occhio in quanto il suo comportamento non li convince affatto così le autorità il giorno dopo convocano tutti i figli di Sherry e di Dwight per aggiornarli sulle indagini ma soprattutto fanno loro alcune domande su Sherry loro madre la detective quindi dice sicuramente con voi vostra madre si è sfogata più che con noi forse quindi siete a conoscenza di qualcosa che ci ha nascosto forse lo ha aiutato a scappare forse sa dove si trova Brett a questo punto chiede ai detective presenti senza troppi giri di parole cosa volete da noi un detective lo guarda e gli dice sei disposto ad indossare una cimice Brett accetta i detective quindi passano a Brett tutte le informazioni che hanno raccolto durante l'indagine e il ragazzo forte di questo va ad affrontare sua madre dotato di telecamera nascosta Brett quindi bussa alla porta di sua madre l'abbraccia e poi entra in casa con lei ben presto si sente Sherry che dice vorrei che ci fossero tutti rivoglio la vita di prima ma non è possibile vorrei che stessimo tutti insieme tutti e cinque Brett risponde ce la faremo mamma ma ora dobbiamo trovare papà tu sai qualcosa Sherry continua a piangere dicendo di non saper nulla e alla fine Brett si ritrova a consolarla fino a quando succede qualcosa in quanto Brett dice a sua madre io vorrei solo tanto sapere cosa gli è successo Sherry risponde a me questo non interessa Brett ribatte in realtà io invece vorrei sapere dov'è Sherry risponde io non lo so sinceramente dove sia io non gli ho fatto niente non so dove sia Brett quando sente sua madre dire io non gli ho fatto niente dice mamma ascolta continueranno a cercare papà a meno che tu non sia in grado di far luce in modo che loro si facciano un'idea più chiara su dove sia e su quando se ne sia andato stanno valutando ogni possibilità Sherry quindi dice a Brett puoi fissarmi un appuntamento con la detective domani mattina voglio essere totalmente sincera su alcuni aspetti Brett risponde ma certo mamma non c'è problema quindi a quanto pare Sherry ha un segreto da confessare ma qual è questo segreto il giorno dopo Sherry Tobin fa una dichiarazione spontanea alla polizia e l'interrogatorio lo conduce la detective Paxon la ringrazia per la sua disponibilità e le chiede di essere completamente limpida e onesta rispetto a ciò che sa dell'accaduto col fine di aiutarli seriamente a cercare Dwight Sherry dice ho chiesto questo incontro perché voglio trovare mio marito io lo amo lo voglio ritrovare e sono molto preoccupata perché una volta un suo amico se n'era andato aveva salutato tutti prima di partire e si era suicidato nel deserto forse mio marito ha fatto lo stesso era distrutto non lo so non ho idea di dove sia la detective quindi chiede sa dirmi almeno se è ancora vivo Sherry risponde non so più neanche questo inizialmente non sembrano emergere nuove informazioni ma prestata sulla località in cui era stato abbandonato il pick up Sherry fa una confessione alla fine emerge che quella che aveva parcheggiato quel mezzo era lei Sherry però racconta che quella mossa faceva parte di un piano gliela aveva esplicitamente chiesto suo marito Dwight in pratica ha scogitato un piano di fuga per eludere l'FBI poi ha detto a Sherry quando sarò partito prendi il pick up e postiggialo in quel parcheggio residenziale sparirò per circa tre massimo sei mesi poi tornerò a casa lascia le chiavi dentro la macchina così potrò usarla per tornare a casa quando tornerò quindi la domanda è faceva davvero parte di Dwight questa mossa? secondo Sherry è così che sono andati fatti e ovviamente Dwight ha scelto di agire in questo modo sempre per depistare le indagini dell'FBI Sherry continua a parlare e dice io non so proprio dove possa essere finito ovviamente la detective Paxton spera vivamente che Sherry riveli il luogo in cui si nasconde Dwight ma in realtà la donna confessa qualcos'altro infatti Sherry senza essere torchiata così di colpo dal nulla dice è stato un incidente è partito un colpo gli ho accidentalmente sparato volevo sparare a me stessa ma Dwight se n'era accorto quindi aveva afferrato l'arma ed ha respreso il colpo la detective a questo punto chiede a Sherry dove si trovi il corpo la donna risponde ecco io l'ho avvolto in delle lenzuola poi ho preso il corpo di mio marito l'ho portato nel deserto e l'ho lasciato lì il problema è che il racconto di Sherry presenta fin dall'inizio delle contraddizioni la prima contraddizione è lampante Sherry è alta un metro e sessanta Dwight è alto un metro e ottanta quindi davvero Sherry era in grado di avere la meglio fisicamente? il problema qui è che il racconto di Sherry presenta fin dall'inizio delle contraddizioni e infatti durante l'interrogatorio cambia versione per ben tre volte senza raccontare mai davvero la verità quell'interrogatorio di base rende la confessione di Sherry non affidabile però c'è una domanda che sorge lampante perché mai assumersi la colpa di un omicidio senza averlo commesso? gli investigatori continuano a cercare risposte ma allo stesso tempo continuano a tenere sotto controllo Sherry i detective a questo punto accettano di farsi condurre dalla donna nel luogo in cui sostiene di aver lasciato Dwight le autorità quindi guidano verso il deserto mentre lei dà loro delle indicazioni ma sostiene sia dura a riconoscere il punto esatto in cui ha lasciato il suo marito in quanto era notte fonda i detective compiono ore e ore di ricerche vanno in diversi posti ma non trovano il corpo di Dwight ormai sta iniziando a farsi buio quindi fanno dietro fronte e quella notte Sherry la passa in cella Sherry non sa spiegare il motivo per cui non sono riuscita a trovare il corpo di Dwight dice che forse qualcuno l'aveva trafugato ma quest'ipotesi non aveva assolutamente senso perché mai qualcuno avrebbe dovuto toccare o spostare quel corpo però è pur vero che senza un corpo è difficile dimostrare che un delitto sia stato realmente commesso poi ecco che dalla contea di Pinal dall'ufficio del medico legale giunge un'informazione un'informazione essenziale in pratica era stato rinvenuto un braccio nella contea di Maricopa un altro braccio due giorni dopo nella contea di Pinal e infine un torso nella contea di La Paz secondo il medico legale tutte quelle parti del corpo appartengono alla stessa persona mancano però la testa le mani e i piedi il medico legale non aveva idea di chi fosse questo individuo e lo descrive al detective di Scottsdale come un uomo bianco di robusta costituzione purtroppo corrisponde al corpo di Dwight e una comparazione del DNA conferma i sospetti degli investigatori la cosa assurda è che tutti i resti sono stati rinvenuti a poco tempo dalla scomparsa di Dwight il 20 dicembre sono stati trovati dei resti nella contea di Pinal il 23 dicembre vengono trovati ulteriori resti nella contea di La Paz a circa 80 km dal confine della California e infine il 26 dicembre un automobilista nella contea di Maricopa ha visto ulteriori resti umani il punto è che la polizia di Scottsdale non viene informata della scomparsa di Dwight fino all'estate ora con gran parte del corpo di Dwight in suo possesso la polizia fa centro specialmente quando riesce a rintracciare i mobili che Sherry aveva venduto online prima di trasferirsi le autorità trovano grazie a Luminal tracce di sangue sulla testiera del letto e inoltre trovano anche una sega elettrica Sherry l'aveva venduta certo ma una volta contattato il compratore non ci mettono molto a scoprire che quella era l'arma con la quale la donna aveva fatto a pezzo il corpo del marito i detective ritengono che Sherry abbia ucciso suo marito la notte prima della sua partenza Sherry non avrebbe mai permesso che Dwight se ne andasse lasciandola lì da sola senza più niente ecco perché Sherry è entrata in camera ha puntato la pistola contro suo marito gli ha sparato un colpo letale alla testa poi ha acceso quella sega elettrica commettendo un atto a dir poco tremendo questa cosa probabilmente Sherry l'ha fatta proprio a causa della corporatura robusta di Dwight perché altrimenti sarebbe stato impossibile per lei trasportarlo quindi la donna ha avvolto le varie parti del corpo in più lenzuoli li ha trasportati fino al garage per infilarli nella sua macchina più precisamente nel bagagliaio e portarlo di conseguenza nel deserto Sherry ha lasciato varie parti del corpo in diverse con te e in seguito ha usato il telefono di Dwight per parlare con i suoi figli era lei che rispondeva ai messaggi alle mail spacciandosi per lui così i suoi figli non si sarebbero allarmati insomma per me è assurdo pensare che una mamma possa fare una cosa del genere ai suoi figli per quanto mi riguarda è davvero una cosa inconcepibile non solo aveva ucciso Dwight suo marito ma aveva anche continuato a mentire i suoi figli inducendoli a credere che loro padre se n'era andato lasciandoli lì soli il punto è che Dwight non l'avrebbe mai fatto perché adorava follemente la sua famiglia era fiero dei suoi figli la detective Paxson a questo punto chiama tutti i figli di Sherry e di Dwight avvisandoli della novità loro madre si è consegnata alla giustizia ha pienamente ammesso di aver ucciso il loro padre ossia suo marito Sherry si dichiara colpevole di omicidio e viene condannata all'ergastolo nel maggio del 2013 muore il primo gennaio del 2021 dopo aver trascorso gli ultimi otto anni della sua vita nella prigione di Perryville in Arizona detto questo ragazzi io ho finito di parlare in questo video spero vivamente che questo caso possa essere stato di vostro interesse conoscevate già questo caso fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti detto questo ragazzi e ragazze noi ci vediamo prestissimo al prossimo video vi mando un bacione mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ciao ragazzi ciao ragazzi grazie a tutti Grazie a tutti.